Posso aprire una parentesi? Perché poi mi rendo conto che quello che per noi è scontato e per gli addetti ai lavori è scontato, a volte non è scontato per il pubblico, per esempio. La parte del soundwriting che tu sempre, in modo anche abbastanza umile, tieni lì tra parentesi, è una parte tanto importante, cioè hai scritto dei pezzi importantissimi. E questo secondo me è giusto dirlo. Sì, assolutamente. Diciamo che comunque il lavoro fatto per altri è stato importante perché comunque abbiamo collezionato un bel po' di successi, Roma Bangkok per un milione, Mambo Salentino, Moscow Mule, cioè abbiamo fatto un po' di pezzi che sono...